Sindaco, i 23 delegati che hanno votato per l'elezione di Gabriele Minossi al sindaco del BIM sono rimasti male dalle sue affermazioni. Hanno detto che non sono delle marionette e faranno un comunicato stampa contro di lei. Sì, ma non parliamo di marionette perché è tutto legittimo. Il problema è il metodo che si adotta nella gestione di questa tipologia di enti pubblici, in questo caso del consorzio BIM, ma di enti che continuano ad essere gestiti, io lo dico, troppo spesso al servizio della politica e non dei cittadini. Se si ritiene un metodo corretto dal punto di vista istituzionale e politico, con una revoca del presidente precedente, una convocazione dell'assemblea fatta il venerdì per il martedì, senza alcun dibattito, senza alcuna discussione istituzionale, con una raccolta firme che era già stata programmata e avviata, ripeto, non si mette in discussione la legittimità, però come metodo io ritengo che sia assolutamente discutibile, anzi direi inaccettabile, e impone una riflessione sul senso che oggi debba avere il consorzio BIM e debba avere più in generale enti pubblici, in questo caso territoriali, che dovrebbero svolgere ruoli significativi per il territorio, che non possono però essere uno strumento al servizio della politica. Ieri Paolo Gatti ci ha rilevato il terzo segreto, il quarto segreto di Fatima, cioè che ha detto che praticamente, in sintesi, l'elezione di Moreno Fien è identica a quella di Gabriele Minosse, quindi se prima non era una porcata, non è una porcata nemmeno l'elezione di Gabriele Minosse, è praticamente semplicemente politica. La parola porcata non appartiene al mio vocabolario, tant'è che non l'ho utilizzata. Io ripeto, da qualsiasi parte provengano, in qualsiasi occasione si manifestino, i metodi che abbiamo visto anche nell'occasione della gestione di altri enti, che hanno anche un rilievo maggiore rispetto al... Parliamo del ruzzo. Parliamo del ruzzo. Lo abbiamo manifestato, il nostro disappunto, e purtroppo la replica di questi metodi è decisamente preoccupante e ci invita ad una riflessione. Non si rischia di isolarsi dal resto della provincia? Ma io, in realtà, è vero quello che giustamente ricordava lei sul numero dei sottoscrittori della candidatura e di chi legittimamente ha votato il presidente Minosse, insomma, quale va l'augurio di buon lavoro, senza ombre di dubbio. Ci sono anche tanti altri comuni e tanti altri sindaci che hanno manifestato il disappunto. E devo dire che questo fronte si sta allargando. Quindi io, ripeto, non mi soffermerei, non ho preoccupazione di isolamento, perché comunque è un messaggio che noi abbiamo mandato nel momento stesso in cui c'è stata la presentazione della nostra candidatura, del nostro percorso, e quindi sono stati cittadini teramani a volere questa rappresentanza a Teramo.